Siamo certi che il Capo dello Stato non si presterà a giochi di parte o a manovri di palazzo. Questa è la situazione, questa è la fotografia obiettiva di questo momento. E quindi, wait and see, aspettiamo gli sviluppi delle vicende parlamentari. Prepariamoci intanto ad affrontare una campagna elettorale non lontana. Calma, sedersi, questo è l'impegno che abbiamo, sedersi. Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Si contenga, fai! Senza fingere! Ma cosa fate? Tenga! Eh, Dio Santo! Reidentimola là! Ma cosa fate? Tenga! Unamente carato! Non siamo nemmeno ricorsi alla fiducia, ci sono stati 7% e 15 voti, ci sono stati solo due voti in cui, tra l'altro non molto importanti, in cui il governo è andato sotto, non si era mai verificato negli anni scorsi. Quindi una maggioranza che tiene le proprie posizioni come ha sempre tenuto in questi versi. Ecco, una maggioranza che non è implosa, allora, non c'è stata quella spallata evocata da più parti, l'unione arretta, è un risultato anche dal punto di vista politico che lascia ben sperare per la vostra coalizione, alle prese anche con altri provvedimenti importanti nelle prossime settimane, così? Io credo che le faccia lasciano anche qualche problema nella destra, avevano puntato tutto su una vittoria materiale, avevano chiamato la spallata, ma era, mettiamo il governo in crisi subito e non si erano nemmeno organizzati per riflettere sulla finanziaria, per cui alla fine anche il dibattito si è impoverito, proprio perché non c'è stata nessuna obiezione portata. Eh, Dio santo, reidentimo la nata!